La pasticceria La pasticceria Che due anni fa nasce con il nome di Dolce Mania Cake Design Avere una linea, una gamma di prodotti Come quella di Dolce Mania Cake Design E soprattutto qual è l'esigenza di un cake design? Allora, per quanto riguarda i prodotti Dolce Mania L'esigenza principale è la bontà Perché sono stati scelti non tutti i prodotti Che servono a un cake designer Ma soprattutto la bontà La pasta deve essere buona Perché stiamo parlando di dolci quindi eventi straordinari che può essere un matrimonio e la realizzazione di una wedding con un supporto quale una suite table, tutti gli elementini che possono servire per quel giorno con l'importanza dell'evento. Poi la facilità proprio di utilizzo oltre alla strumentistica i tools che sono gli strumenti. L'altro aspetto importante è soprattutto lo stupire, quindi non è solo creatività ma stiamo parlando di eventi straordinari che può essere un battesimo, un matrimonio, anche semplicemente un compleanno quindi devo stupire chiunque, sia professionisti che non. Poi c'è la bontà, quindi il marchio Dolcemania, lo dice anche il nome stesso, deve essere proprio garante di bontà. Nascono due linee, anzi tre linee, una linea di prodotti, di accessori, di tools come ne ha descritti, una linea per l'alimentare, diciamo gli alimentari, una linea per la pittura. Oltre alla pittura siamo sempre nel campo Dolcemania perché sono tutti prodotti certificati alimentari edibili e abbiamo anche l'altro aspetto che sono le sweet table, i parti, quindi tutti gli accessori legati a come crearli e come abbinarli e coordinati. A Dolcemania Cake Designer va avanti con un discorso di implementazione nella formazione del cake designer. Ci rivolgiamo a tutti, al pubblico, ai professionisti, ai pasticceri, a mamme e bambini anche perché abbiamo proprio classi di bambine con academy specifici, showroom, hobby show, fiere e a livello internazionale con altri eventi, anche contest. Cosa deve avere il cake designer per ritenersi soddisfatto nelle sue caratteristiche essenziali, nella sua attività creativa? Fantasia, principalmente, un po' di estro geniale e soprattutto stupire, stupire ma non solo a livello estetico anche con la bontà perché la torta io la manzo. Scegliete Dolcemania Cake Designer perché tu mi rispondi? Perché i prodotti sono stati già scelti da noi in maniera molto selettiva perché siamo molto difficili e l'azienda a sua volta li ha riselezionati e sono buoni. Io sono con l'amministratore delegato, general manager della Fair Impact SRL, che è Luca Robba. Come, che cosa fa Fair Impact SRL e come arriva a questa innovazione di prodotto che si chiama Fruzer? Fair Impact SRL commercializza da più di 30 anni nel mondo della frutta surgelata. Siamo importatori e produttori di tutti i tipi di frutta, dal frutti di bosca ai tradizionali ai tropicali. Ci troviamo qui nuovamente al Sige con una bella novità per ampliare la gamma della vendita della frutta e soprattutto per stimolare il consumatore finale all'utilizzo della frutta surgelata. Di qui nasce Fruzer. L'idea è venuta di invogliare l'utilizzo e il consumo della frutta surgelata facendo produrre un calippo di frutta, che non è un vero calippo, è un frullato di frutta, fresco, genuino che può essere consumato dalla colazione al pranzo, alla cena, quando si vuole. Le mamme, i bambini sicuramente potranno gustare la freschezza e la naturalezza di questo prodotto. Il marchio Fruzer perché? Frutta, frutta che ti frutta, fresco, colorato, un'esplosione di colori, di genuità, di naturalezza. È questo che vogliamo puntare. Sergio Collalucci, maestro gelatiere, anche consulente per la creazione del di Fruzer che è la grandissima novità presentata dalla Fair Inpex per tutti i gelatieri e non solo, per tutte le aziende che avevano bisogno di qualcosa di nuovo. Partendo dal presupposto che proprio a proposito di marketing l'idea nostra è stata quella di creare un prodotto naturale per cui siamo partiti dalla frutta fondamentalmente stiamo parlando di un nuovo prodotto a base di frutta è un prodotto fresco, naturale, genuino ha dal minimo del 30% fino addirittura al 70% di frutta all'interno per cui il mercato oggi ci richiede un qualcosa di veramente naturale e fatto bene chi più di Fruzer con assolutamente frutta vera, reale dentro gustosa, fresca, buonissima, gradevolissima da mangiare Noi stiamo parlando di una frutta frullata e ghiacciata il che è diverso perché Fruzer in realtà è un prodotto a base di frutta e zucchero e una piccolissima percentuale di acqua a differenza di un ghiacciolo che invece è in prevalenza di acqua c'è da tenere conto di una cosa, questo è un prodotto che anche se lo gustiamo durante il periodo invernale risulterà comunque al palato non freddo come un ghiacciolo prettamente estivo per cui è un prodotto che può essere tranquillamente degustato anche nei periodi invernali ma che fondamentalmente è della frutta fresca, ghiacciata che al palato ti dà una sensazione totalmente diversa Abbiamo fatto in maniera di avere la possibilità di gustare Fruzer senza doversi né sporcare né colare né far sì che questo prodotto possa andare giù e andare anche a essere sprecato, perché no? Tre buoni motivi per cui scegliere su un mancone gelato Fruzer da consumare per grandi, piccoli e medi è buono, è naturale e è 100% frutta Oggi l'azienda può vantare di uno staff giovane, dinamico, con delle bellissime idee, proposte innovative, fresche, ghiacciate e da questo è nato Fruzer e da questo nasceranno tante altre idee di raffrescamento dell'azienda Fairimpex azienda storica, azienda leader che deve andare avanti per tanti, tanti, tanti anni www.fairimpex.it Venite a trovarci, guardateci, chiamateci, saremo sempre a vostra disposizione E come dice il pay off, la frutta che? Che ti frutta Combustione del legno Calore Energia Oltre 24 paesi del mondo pronti per la biennale internazionale Progetto Fuoco Dal 19 al 23 febbraio 2014, Fiera Verona è Progetto Fuoco Mostra internazionale di impianti e attrezzature per la produzione di calore ed energia dalla combustione della legna 85.000 metri quadri di superficie espositiva Oltre 650 espositori provenienti da tutto il mondo Piattaforma di incontri internazionali Più di 2.000 caminetti e stufe, di cui 250 impianti in funzione durante la fiera Caminetti, stufe, caldaie e impianti a biomassa, pelle, componentistica e tanto altro ancora Il primo fuoco design su misura Fiera Verona dal 19 al 23 febbraio 2014 è Progetto Fuoco Progetto Fuoco, innovazione e tecnologia per la produzione di calore ed energia Combustione del legno, calore, energia Dal 19 al 23 febbraio Fiera Verona è Progetto Fuoco 2014 www.progettofuoco.com Il mondo dell'innovazione deve essere sempre Alla portata della pasticceria che richiede un abbattimento di tempi A questo pensa Stefano Lunazzi con una innovazione di prodotto che si chiama Luna Posh Che cos'è Luna Posh? Luna Posh è una macchina che monta istantaneamente la panna e la eroga tramite un erogatore Quindi si evita di montare la panna in una planetaria e poi usare la sacca Posh Ecco, Luna Posh nell'applicazione pratica riesce a fare cosa? Se lo vediamo, così come lo stiamo vedendo in questo momento In comparazione tra un modo tradizionale di montare la panna E un modo non tradizionale, anzi il modo Luna Posh di montare la panna? Praticamente questa macchina anziché montare la panna con una planetaria Pesca la panna da sola, la monta e la eroga con una pistola, un accessorio direttamente sulla torta Immediatezza di prodotto, la panna subito montata Per il pasticcere cosa significa? Tempo, guadagno Nostra, questa cosa è tutta molto neanche Noguane, questa è tuona Noguane, un peore Nose, no paz E non fare Neote, leva variables Più What ��� I buoni motivi per cui scegliere per il pasticcere Slunaposh? Per l'innovazione per la pasticceria, due perché aumenta la produttività del pasticcere e tre perché è l'innovazione del 2014. Per l'innovazione per l'innovazione per l'innovazione per l'innovazione del 2014. www.slunaposh.it www.slunaposh.it We, we, we can't be held down It makes you so much stronger It makes you so much wiser Than each year And you're so close to your dreams And no mistake, no heartbreak Can take away what you're meant to be please And you're so close to your dreams